Ti ho scoperto, Yolanda. Adesso puoi anche smetterla di fingere di essere un'ingenua cuginetta. Hai voluto prendermi in giro. Non hai niente da dirmi. Sì, voglio andarmene. È chiaro. A quanto pare questa è la tua arma preferita. Gridare, scappare. Bene, devi sapere che in una delle tue passeggiate io ti ho seguita. E così sono arrivato fino alla porta dello studio del dottore Alveare. Ti ricordi? Non ti dice niente questo nome. Tu eri appena uscita. E così ho deciso di farmi ricevere dal dottore. Mi sono fatto passare per tuo marito. E allora lui mi ha dato la grande notizia. Una notizia che mi ha commosso profondamente. presto lei sarà un felice papa. La signora Yolanda Logan sta per avere un figlio. Chi è il padre? Il dottore Alveare.